Bene, oggi sono qua, sono molto contenta di partecipare a questo evento e in particolare parlerò della piattaforma BuildLab che è un innovativo strumento che abbiamo messo in campo nella regione Emilia-Romagna per favorire il dialogo tra il sistema delle costruzioni e il sistema finanziario. Nasce da un progetto europeo, quindi è coperta da finanziamenti europei e ha l'obiettivo proprio di migliorare l'attrattività degli investimenti in efficienza energetica e sostenibilità nel settore dell'edilizia.